Piena e incondizionata fiducia al sindaco Costa, un messaggio lanciato da Palazzo Luigi Razza quasi a sgomberare ogni dubbio dal presidente del Consiglio Stefano Luciano e dal già consigliere regionale e presidente della provincia Gaetano Bruni, che hanno convocato la stampa per ufficializzare la nascita di una federazione di due gruppi consigliari, Vibo Unica e Alleanza per Vibo. Della rinforzata squadra fanno parte due esponenti dell'esecutivo guidato dal sindaco Costa, l'assessore alle politiche sociali Lorenza Scrugli e il collega delegato allo sport e spettacolo Nico Console. Nel gruppo pure Alfredo Antonio Lobianco e Samantha Mercadante, già alleanza per Vibo, oltre a Stefano Luciano, Claudia Gioia e Angelo Palamaro di Vibo Unica. Nessun tatticismo politico, né tantomeno la volontà di mandare segnali minacciosi a chi che sia, in particolar modo al primo cittadino Elio Costa, verso il quale al contrario si rinnovano con forza sentimenti di stima incondizionata fiducia. Parola d'ordine, ha ribadito nel suo intervento Stefano Luciano, è semplificare, in modo da snellire i processi decisionali e agevolare le dinamiche amministrative. Per semplificare le dinamiche che sono oggi presenti in Consiglio Comunale, dove questi insieme di gruppi non omogenei fra di loro possono in qualche modo rallentare i processi decisionali, invece ovviamente la federazione che si pone come organismo unico tende alla semplificazione di questi procedimenti e poi si apre anche una prospettiva di carattere politico, perché dalla federazione partirà un processo di natura politica attraverso il quale si tenterà di aggregare tutte le forze moderate, progressiste e riformiste per dare nuovo slancio e nuova linfa ad un dibattito politico che in città è assente. Il progetto è quello di incamerare l'adesione di almeno un altro consigliere del gruppo Liberamente Insieme e fare confluire altri esponenti del gruppo Vibo Valencia Popolari vicini ad Alfonso Grillo, il quale a poche ore dalla conferenza stampa conferma l'interesse al progetto messo in campo da Alleanza per Vibo e Vibo Unica, che dunque vedrà rafforzarsi in seno al Consiglio l'area moderata.